Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Stefania o Love Fersmell. Se vi piacciono i profumi siete nel posto giusto, perciò insomma io vi invito ad iscrivervi e a seguirmi. Bene ragazzi, oggi voglio mostrarvi alcune delle fragranze che sto indossando proprio con più gioia. Io ovviamente, come penso chiunque di voi mi sta seguendo, ho molti profumi, però ho un piacere particolarmente elevato quando mi spruzzo alcune di queste fragranze. Alcune le avete già viste, altre invece assolutamente no. Una ha una settimana, è proprio piccolina, è appena nata nella mia collezione, però da quando l'ho comperata continuo costantemente ad indossarla. So che non è nella sua stagionalità, però ragazzi, sapete che quando nasce un amore, nasce ecco. Parto con la prima del giorno. C'è stato un periodo ad inizio primavera in cui mi ero fissata con la Magnolia. E tuttora questo profumo continua ad essere qualche cosa che io ricerco con costanza, anche perché insomma ci sta bene in questo periodo. Ed è Magnolia Supercritic di Leso Primordiel. Io non sento parlare molto di questo brand, ho provato tantissime referenze di questa casa, vi assicuro che sono una più buona dell'altra. Come sapete adoro la rosa e ero stata fortemente tentata di comprarmi l'ennesima rosa. Invece ho detto no Stefania, cioè rompi un po' gli schemi e passa a qualcos'altro, prova una Magnolia. Ebbene ragazzi, questa Magnolia è qualcosa di pazzesco. Non abbiamo solo la Magnolia appunto all'interno di questa fragranza, ma abbiamo anche un smanto, ilangilang, frangipane, fiori d'arancio, un bel po' di vaniglia e per l'appunto la Magnolia stessa. Ora, se avete mai annusato una Magnolia, saprete quanto intenso e quanto denso sia il profumo di quel fiore. Se ce ne sono tante che sono pienamente sbocciate, se avete mai avuto la fortuna di avere anche un albero di Magnolia in giardino come ho io, cioè proprio annusate il profumo di questo fiore, è quasi intossicante a tratti, perché questo profumo floreale bianco è qualcosa che vi entra letteralmente dentro. Ebbene, se avete paura di quella sensazione, sappiate che non è così in questa Magnolia. È veramente complessa, ovvero si apre proprio con il profumo della Magnolia stessa. Ed è un profumo bello allegro, viene reso molto più vivo da questa parte proprio data dal fiore d'arancio, che è estremamente presente. Poi c'è anche questa bella parte aggrumata, ma con questo tocco di osmanto, la Magnolia contenuta appunto all'interno di questo flacone diventa una Magnolia fortemente fruttata. Per chi non lo sapesse, magari per chi fosse nuovo e passasse di qui per caso, sappiate che lo smanto è appunto un fiorellino che ha con sé profumi che ricordano quelli della frutta, albicocca, a tratti quasi la pesca. E dunque anche questa Magnolia risente appunto della caratteristica di questo smanto. Poi è una Magnolia anche tropicale, perché vi dico che è tropicale? Poiché all'interno di questa Magnolia è contenuto degli lang ylang. E lo sentite perché è una Magnolia molto cremosa. Dunque questo risulta essere un profumo sì floreale e floreale bianco, però risente di tutte quelle che sono le sfumature della parte tropicale e della parte aggrumata. È un bellissimo profumo fiorito, lievemente declinato verso il femminile perché è lievemente declinato verso il femminile. Però io assolutamente non escludo che possa essere bello anche su di un uomo. Cioè non l'ho mai provato su di un uomo, nel senso non l'ho neanche mai spruzzato a mio marito per sentire come sta, però io penso che possa rendere perfetto. È una Magnolia molto elegante, è un profumo raffinato, è un profumo anche che porta con sé questa bella parte pulita e fresca che è perfetto per questa stagione. Io vi consiglio di approfondire se volete anche appunto sentire altre fragranze di questo brand perché è fantastico, l'esoprimordiale, queste acque primordiali che sono qualcosa di fotonico. Altro profumo, nuovo, nuovissimo, super nuovo a 7-8 giorni. Ve lo mostro con il pack perché è troppo bello. È un profumo sempre di nicchia, però questa è nicchia low cost ragazzi perché costa su meno di 50 euro. Scusate il francese, allora il nome è Heliotrope Gengibre, penso che si dica così, poi se non si dice così abbiate pietà ragazzi perché non lo so. E appunto è di Fragonard, ora lo tiriamo fuori dal suo astuccino che è fantastico. Questa è la boccettina con la quale si presenta, ecco qui abbiamo arancia e bergamotto in apertura. Nel cuore della fragranza abbiamo zenzero, cannella, mela e rosa, già capirete che forse la stagionalità non è quella corretta ma non importa. Sul fondo abbiamo Heliotropio, vaniglia, fava, tonca e caramello. Bene, diciamo che c'è appunto questo sentore di mandorla qui all'interno di questa fragranza che è proprio percepibilissimo. La mandorla ragazzi non è la mia nota, a meno che non sia declinata come lo è all'interno di questa fragranza. Apre da subito vivace e pungente, sentite la spezia, sentite lo zenzero, dunque pizzica un pochino però è proprio una delle parti belle di questa fragranza. Poi però arriva tutto quello che piace a me, ovvero la parte zuccherina, la parte dolce, la parte cremosa. È un profumo molto molto latteo e si apre proprio con questa nuvola di mandorla soffice che è appunto talcata e dolce grazie a tantissima vaniglia e a tantissima quantità di Heliotropio perché lo sentite proprio in maniera quasi pulsante questo Heliotropio che vi arriva al naso. Arriva poi tutta quella che è la parte caramellata, tutta quella parte proprio bella rotonda adatta da questa fava tonca che è all'interno della fragranza. È un profumo secondo me finto e innocente, è un po' come una ragazza di quelle tutte magari, come posso spiegarmi senza essere magari scorretta nei termini. Sembrano quelle ragazze che sembrano come dire tutte così quasi sante e in realtà sono particolarmente vivaci, ecco mettiamola così senza girarci troppo attorno. Lui è più o meno così perché sembra un profumo finto e innocente perché è vivacissimo, è stramega allegro, cioè ha questa parte proprio speziata, si sente tutto lo zenzero. Poi nella fase di asciugatura avete questa ventata di cannella calda che c'è qualcosa di divino ragazzi e questa lieve declinazione verso anche la parte floreale della rosa che lo rende qualche cosa di straordinario, il dry down è bellissimo, è caramellato, è vanigliato, è piccantino perché questo zenzero ve lo sentite tutto. Però c'è sempre questo sentore mandorlato, cioè ragazzi è un profumo straordinario, ha un'ottima durata, su di me dura tantissimo, veramente tanto tanto tanto. Non tanto quanto a proiezione ma quanto a proprio sillage, cioè si appiccica addosso, è bellissimo, io non riesco a smetterli di adoperarlo, infatti guardate ce l'ho appena comperato, siamo già qui, vabbè. Andiamo avanti, altro profumo che per me è un must con il caldo, cioè questo è un must nel senso che è una fragranza storica e anche di questo brand non si parla tanto, ma in realtà ragazzi è una pietra migliare della profumeria e floris, lui è il white rose. Per chi ha più cultura di me in campo appunto della profumeria, questo è davvero un must have, questo è un profumo che è stato creato nel 1800 per la regina Elisabetta ragazzi. Abbiamo accordi di garofano, abbiamo note verdi, abbiamo al daily, abbiamo la rosa, la violetta, l'iris, il gelsomino, poi abbiamo delle note talcate, del muschio. È un profumo assolutamente divino, raffinatissimo, pulito, bianco, un profumo proprio che riflette, immaginatevi un giardino, ma uno di quei bei giardini proprio magari delle ville oppure dei palazzi di una volta, tutti quelli esattamente curati proprio nel minimo dettaglio, in cui le rose bianche sono in piena fioritura e voi ne sentite il profumo, perché quello che sentite è proprio profumo puro di rosa, pulitissima con questo dry down muschiato e per l'appunto fresco, luminoso, è proprio come una bella giornata in cui c'è il cielo terzo, azzurrissimo, questo bel sole che vi batte sulla pelle, le rose sono in piena fioritura, voi camminate appunto in questi viali in cui siete affiancati da questi appunto rosetti e ne sentite il profumo. È una fragranza secondo me senza tempo, capisco perché piacesse così tanto alla regina, ma non perché voglio dire fosse la regina, ma perché è una fragranza immediatamente bella. Ovvio che per poter apprezzare questo profumo dovete apprezzare il profumo della rosa. Se non siete stimatori di questa nota, questo profumo non mi piacerà assolutamente. C'è anche un lieve sentore di violetta, però io lo sento in maniera piuttosto delicata, anche perché se fosse troppo prominente a me non piacerebbe, perché la violetta da sola, presa proprio come singola nota, a me proprio non piace, anzi mi dà quasi noia, mi dà quasi fastidio. È un profumo bellissimo, elegante, splendido, lucente, perfetto per questa stagione, molto fresco. Vi dà quella sensazione di benessere, proprio di pulizia e di freschezza che questo genere di fragranza appunto è in grado di dare. Io penso che per oggi posso fermarmi qui e come sempre grazie se siete arrivati fino a questa parte del video e vi aspetto al prossimo. Ho comperato altre chicchette arabe. Non so se parlarvi prima di una o dell'altra comunque, insomma un po' alla volta, io vi parlo di tutto. E se vi va lasciatemi un commentino qui sotto e fatemi sapere cosa state indossando voi. Ciao!